Dermastirgel contorno occhi minimizza le rughe sottili e rigenera il contorno occhi e labbra. Perfetto per sgonfiare gli occhi, correggere le occhiaie e rivitalizzare la pelle. Tra i principali ingredienti troviamo l'adenosina, per una pelle più levigata e per correggere le rughe profonde. Il collagene, in grado di levigare la pelle, dare elasticità, compattezza, ottimo anche come antirughe. Infine troviamo 8 fidoestratti antiossidanti, depigmentanti, schiarenti. Consigliamo di applicare il Dermastirgel contorno occhi in caso di occhiaie, occhi gonfi, borse, antirughe. La crema Dermastir contorno occhi è la soluzione perfetta per i primi segni di invecchiamento. Il packaging in airless garantisce la stabilità del pH della crema, riducendo le linee sottili e le rughe intorno ad occhi e labbra. Prima di applicare il Dermastirgel contorno occhi, suggeriamo di detergere bene il viso per rimuovere ogni residuo di sporco, trucco o sebo. Premere il dosatore della crema per far uscire 1 ml di prodotto. Applicare il gel Dermastir contorno occhi con movimenti circolari dall'interno verso l'esterno. Il gel può essere applicato ogni giorno come routine quotidiana mattina e sera. I risultati sono visibili già dalla prima applicazione. Dermastir crema contorno occhi è un prodotto manifatturato in Francia da Alta Care Laboratoire. Grazie per la visione!